I carabinieri del ROS nelle province di Palermo, Trapani, Caltanissette e Brescia, con il supporto dei competenti comandi dell'arma territoriale, stanno dando esecuzione ad un unfermo di indiziato di delitto emesso dalla procura distrattuale di Palermo nei confronti di 15 indagati ritenuti a vario titolo responsabili di istigazione a commettere più delitti in materia di terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi lavorati a esteri plurimi, episodi di ingresso illegale di migranti clandestini nel territorio nazionale, ed esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, reati questi e aggravati poche commesse avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delinquenziali in più di uno Stato.